Primo sopralluogo dell'Arpa Molise sui pozzi di contrada Capoiaccio a Cerce Maggiore, dalle rilevazioni preliminari sembrerebbe non esserci nessun dato allarmante. Fingevano intossicazione alimentare per poter minacciare il titolare di un esercizio commerciale del capoluogo o ci risarcisci in denaro oppure ti mandiamo in ass, dicevano l'uomo e la donna finiti in manette. Dopo aver occupato la statale 17 i lavoratori della gamma di Boiano si sono riuniti in assemblea a pagamenti arretrati, ammortizzatori sociali e piano di rilancio le tre questioni irrisolte per le quali la protesta non è destinata a concludersi. Serie D in casa giallorossa dopo i segnali incoraggianti dell'ultima gara si sogna in grande, primo tra tutti a farlo il presidente Nicola Cesare in promozione, il mister del Re al Termoli, Guglielmi, contento della prestazione dei suoi ragazzi, guarda già la prossima partita. Bentrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo dei pozzi di Cerce Maggiore perché stamattina c'è stato il primo sopralluogo da parte dell'Agenzia regionale dell'ARPA Molise, dai primi rilievi effettuati dalle tute bianche non ci sarebbe nessun dato allarmante, tutto sembrerebbe essere nella norma ma sentiamo i dettagli nel servizio. Questa mattina siamo qui a Capo Iaccio a Cerce Maggiore, precisamente nella località dove sorgevano i pozzi della Montedison. Questa mattina ci sono qui i tecnici e c'è il direttore dell'ARPA, Quintino Pallante, un sopralluogo che servirà per rilevare eventuali rifiuti che possono avere una tossicità rilevante. Quest'oggi l'ARPA Molise è qui sui pozzi della Montedison a Capo Iaccio a Cerce Maggiore, quindi si dà il via a quelle che sono le operazioni, anche se preliminari, di sondaggio del terreno. Certo, stamattina si avvia su sollecitazione della terza commissione del suo presidente. L'ARPA oggi inizia un ciclo che dovrà essere naturalmente adeguato e soprattutto dovrà essere caratterizzato da procedure per step. Oggi è la prima fase attraverso la quale con strumenti molto particolari per i quali siamo in grado di rilevare sia pure in maniera preliminare le attività che sono state svolte qui sul territorio. Tra l'altro abbiamo avuto una giornata favorevole nonostante il clima è invernale, quindi si parte e poi naturalmente sarete tutti informati circa il proseguo delle attività e io spero che non ci sia nulla di eclatante. Oggi non siamo naturalmente in grado di esprimere nessun tipo di giudizio, ma l'importante è che siano state finalmente avviate queste ricerche. Cambiamo argomento, abuso d'ufficio e favoreggiamento personale sarebbero le ipotesi di reato per le quali il questore di Campobasso Giancarlo Pozzo sarebbe indagato dalla procura di Campobasso. secondo il sostituto procuratore Fabio Papa Pozzo avrebbe favorito il presidente della regione Frattura per la vicenda che riguarda un'indagine sui contributi pubblici concessi alla Biocom, una società che aveva tra i suoi soci proprio l'attuale governatore che doveva realizzare una centrale a Biomasse. La notizia è stata diffusa questa mattina sul Corriere della Sera. Intanto lo stesso Pozzo ha fatto sapere come la cosa lo lasci perplesso anche perché al momento nessun atto gli è stato notificato. Sono sereno e sicuro di aver lavorato correttamente, ha detto il questore del capoluogo. E ancora la cronaca perché hanno finto malori, intossicazioni alimentari e ricoveri in ospedali dopo aver consumato prodotti acquistati precedentemente in un esercizio del capoluogo ed hanno chiesto poi al titolare un risarcimento in denaro per il proprio silenzio. Dovranno ora rispondere di tentata estorsione i due Rom arrestati dai carabinieri. Sentiamo. Hanno 51 e 58 anni l'uomo e la donna di etnia Rom arrestati dai carabinieri della compagnia di Campobasso colpevoli di estorsione ai danni di un commerciante del capoluogo. I fatti risalgono lo scorso mese di settembre i due Rom, dopo aver acquistato prodotti caseari all'interno di un alimentare, hanno finto malori dovuti ad un'intossicazione alimentare con tanto di ricovero all'ospedale Cardarelli di Campobasso e hanno poi minacciato il titolare invitandolo a risolvere bonariamente la vicenda con un risarcimento in denaro, altrimenti si sarebbero rivolti agli uomini del NAS, il nucleo antisofisticazione. Fortunatamente il titolare non si è fatto intimorire dalle minacce ma al contrario si è rivolto alle forze dell'ordine che grazie ad una meticolosa attività di indagine sono riusciti a ricostruire l'episodio risalendo all'identità dei due malviventi. L'uomo già noto alle forze dell'ordine si è reso responsabile di un episodio analogo ai danni di un altro commerciante colpevole, secondo lui, di aver venduto una barretta di cioccolato che aveva provocato un malore ad un bambino. In questo caso però la vittima, intimidita dalle minacce, ha confermato di aver consegnato all'estorsore 100 euro per il suo silenzio. Fortunatamente i due sono stati individuati e assicurati all'autorità competente. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Campobasso mentre la donna si trova agli arresti domiciliari. Intanto sono ancora in corso verifiche volte ad accertare se la stessa tecnica sia stata usata ai danni di altri esercizi commerciali. Circolava senza patente con la propria autovettura in una via del centro di Campobasso nonostante fosse ai domiciliari. Il 31enne pregiudicato non si è fermato all'alto e intimato dalla polizia ma dopo un'inversione di marcia si è dato alla fuga compiendo numerose manovre pericolose nel traffico cittadino per far perdere le proprie tracce. Grazie all'ausilio di una seconda volante l'uomo è stato però raggiunto ed arrestato per il reato di evasione resistenza e guida senza patente. Ed ora spostiamoci alla gamma di Boiano dove da ieri non si ferma la protesta dei lavoratori, l'azienda Vicola che dopo essere stata occupata dai dipendenti che hanno appunto anche preso di mira la statale 17 questa mattina si sono riuniti in assemblea. Gli stessi attendono ora delle risposte certe da parte della regione circa gli arretrati maturati, gli ammortizzatori sociali e il piano di rilancio aziendale. Sentiamo. Solo ieri un gruppo di lavoratrici della GAM, l'azienda Vicola di Boiano, aveva fatto sapere di aver scritto una lettera ai segretari generali di CGL, CISL e UIL e solo nel tardo pomeriggio di ieri nell'azienda di Monteverde è riesplosa la rabbia e la disperazione dei dipendenti, degli allevatori e dei trasportatori che hanno occupato la fabbrica e bloccato la statale 17. Vogliono risposte chiare da parte della regione molise e intendono incontrare il presidente frattura che impossibilitato a raggiungerli li convoca per lunedì 20 gennaio. Una data troppo lontana per chi ha difficoltà a pagare il mutuo di casa o anche solo a fare la spesa per mangiare. Dunque se la mobilitazione cessa solo nella tarda serata di ieri riprende già a partire dalle prime ore di questa mattina quando si riunisce l'assemblea dei lavoratori chiamate a confrontarsi con i rappresentanti dei sindacati e con l'amministratore unico baranello. Un vertice fiume durante il quale si discute su tre punti fondamentali. Tutti gli arretrati che i lavoratori pretendono ora di vedersi retribuiti dalla regione molise l'annosa questione relativa agli ammortizzatori sociali e il piano di rilancio i cui contenuti non sono stati ancora ufficializzati. Tuttavia proprio su quest'ultimo i lavoratori nutrono forti dubbi sia circa l'ipotesi della ristrutturazione dello stabilimento sia relativamente all'idea di edificare una nuova struttura più piccola per mandare avanti la filiera vicola. Per entrambi le ipotesi infatti i lavoratori hanno paura dei tempi biblici che tali azioni comporteranno e che non saranno inferiori ai 15-16 mesi. Intanto mentre il dibattito si anima sempre di più prevale l'idea che la protesta non sia in alcun modo destinata a concludersi. Occupiamoci ora nuovamente dell'Agenzia regionale di protezione civile perché è stato firmato e approvato da tutti i consiglieri l'ordine del giorno che impegna il presidente della regione Frattura a trovare unitamente alla delegazione parlamentare molisana una soluzione per salvare i contratti dei dipendenti aumentando la quota dei fondi CIP destinata ai tecnici. Sentiamo. Nessuno scivolone né tantomeno nessuna marcia indietro sulla delicatissima vicenda dei precari della protezione civile che diventano anche terreno fertile per far germogliare equivoci e polemiche. Così è esordito il consigliere regionale Salvatore Ciocca in aula. Già scaduto il contratto per 50 tecnici mentre il 31 gennaio cesserà il rapporto di lavoro ad ulteriori 45 dipendenti tecnici e amministrativi. Da qui l'impegno bipartisan volto a scongiurare licenziamenti che ha spinto i consiglieri a votare all'unanimità la proposta di ordine del giorno che impegna il governatore Frattura a trovare la soluzione idonea con il coinvolgimento della delegazione governativa e della deputazione parlamentare molisana. L'agenzia tuttavia va rivista secondo il governatore Frattura in funzione di una netta chiarificazione delle competenze attribuite e della distribuzione dei ruoli. Unitamente alla delegazione parlamentare molisana si sta cercando di ottenere a livello centrale la maggiorazione della quota percentuale destinata all'assistenza tecnica. In assenza di questa attesa condivisione a livello centrale ammesso il governatore sarà impossibile individuare un'altra soluzione. Non è pensabile gravare ulteriormente sul bilancio regionale già troppo in sofferenza. Poi una stoccata alla precedente amministrazione colpevole secondo il presidente di aver dirottato risorse della ricostruzione verso interventi che con questa avevano poco o nulla a che vedere. Intanto nonostante gli impegni e le promesse aumenta di giorno in giorno la preoccupazione dei precari che sperano in un epilogo positivo della vicenda. Ed ora la vertenza dell'ETR perché si è svolto presso il polo tessile di Petto Ranello il consiglio di amministrazione per illustrare quali saranno le prossime linee guida del piano concordatario che l'azienda dovrà presentare al Tribunale di Isernia entro il prossimo 24 gennaio ma durante il vertice un gruppo di lavoratori ha avviato delle proteste contro la proprietà. Sentiamo. Giornata di fuoco nell'ultime ore presso gli stabilimenti dell'azienda tessile di Petto Ranello. Mentre era in corso il consiglio di amministrazione, circa 50 lavoratori del polo tessile erano intenti a manifestare al di fuori dei cancelli. Una pesante manifestazione contro il patron Antonio Bianchi intimandolo di andare via dall'azienda stanchi e esasperati dall'ormai difficile situazione economica e politica che li ha portati. Pertanto il consiglio di amministrazione ha approvato alcune linee guida del piano concordatario che sarà presentato entro il prossimo 24 gennaio presso il Tribunale di Isernia. Una proposta che individua tre punti fondamentali affinché venga assicurata una continuità aziendale e che venga inoltre garantita la tutela delle maestranze. Si prevede dunque la messa in liquidazione dell'ITRSPA, la costituzione della NUCO e la cessione del ramo d'azienda alla nuova società, ripartito in tre nuove fasi, un accordo di produzione e distribuzione in esclusiva, l'affitto del ramo d'azienda ed infine la sua cessione. Per i lavoratori questo rappresenta una nota positiva in quanto si va verso l'ufficialità del piano concordatario in modo tale da garantire un futuro per l'azienda, anche se resta da capire quale sarà la compagine societaria, conno senza bianchi, le moason su cui puntare, il numero dei lavoratori coinvolti e se verrà concessa o meno la cassa integrazione straordinaria. Tutto questo si saprà solo e soltanto il prossimo 29 gennaio, quando si terrà a Roma il tavolo interministeriale. Tale incontro sarà decisivo per l'azienda. E sempre per quanto riguarda l'azienda tessile di Pettoranello, ricordiamo che è prevista per domani la decisione dei giudici circa il rinvio a giudizio per Tonino Perna, l'ex patron dell'IT Holding. Oltre a lui la richiesta di rinvio a giudizio coinvolgeva altre 14 persone che domani dovranno comparire di fronte al giudice del Tribunale del capoluogo Pentro. L'inchiesta denominata Alta Moda contesta sia a Perna che a diversi amministratori facenti capo all'azienda il reato di bancarotta a seguito del crack di 60 milioni di euro prodotti dalla IT Holding. Ed è a rischio chiusura l'emodinamica del Santimotio di Termoli in base al nuovo piano sanitario regionale ma per il responsabile del reparto, il dottor Serafini, si tratterebbe di un grave disservizio per la collettività basso molisana. Sentiamolo. In Regione negli ultimi giorni si è tornato a parlare di sanità dopo la nuova proposta del piano ospedaliero 2013-2015 e in Basso Molise torna con preoccupazione l'allarme chiusura del reparto di emodinamica del Santimotio che registra un bacino di utenza annuale di circa 436 casi d'urgenza accertati. Un reparto che da lontano 1995 risulta essere il fiore all'occhiello dell'ospedale di Termoli con servizi ben al di sopra di molti ospedali italiani. Sulla possibile chiusura del reparto si è espresso il dottor Nicola Serafini. La presenza di questo tipo di metodica nella struttura cardiologica di Termoli ha rappresentato una spinta e un elemento di miglioramento globale dell'assistenza del cardiopatico. Non serve soltanto a migliorare il risultato finale, a ottenere che il paziente non vada fuori. Serve anche a fare in modo che il paziente venga trattato meglio fin da quando mette i piedi all'interno della struttura ospedaliera. La scomparsa di questa metodica dall'ospedale di Termoli rappresenterà sicuramente una causa di scadimento dell'assistenza globale del cardiopatico. Non si tratta solo di emodinamica, si tratta di riconoscimento delle sindrome coronariche e che inevitabilmente andrà peggiorando col tempo. Nelle sindrome coronariche solitamente si sa che bisogna intervenire il prima possibile. Spostando l'emodinamica a campo basso per un paziente basso molisano, automaticamente il rischio di mortalità aumenta. Beh, è chiaro che è difficilmente quantificabile. Le linee guida dicono che comunque dal momento del primo contatto bisogna comunque intervenire almeno entro 90 minuti. Parliamo intervenire, cioè primo gonfiaggio del pallone all'interno della coronaria. E questo naturalmente è abbastanza complesso se si pensa di dover trasportare il paziente ad una certa distanza. Dunque la chiusura di tale reparto potrebbe portare un chiaro scadimento del servizio sanitario termolese, con un possibile aumento della mortalità per anomalie cardiovascolari. Il tutto senza portare nessuna decurtazione sui costi della sanità regionale. Basti pensare che solo l'apparecchiatura dell'emodinamica è costata circa 1.700.000 euro e non avrebbe nessun senso, dopo aver speso tanto, lasciarla inutilizzata. Cambiamo argomento perché la prima sessione plenaria del 2014 si è concentrata sul passaggio di testimone fra la presidenza lituana e quella greca. Il lavoro soprattutto quello per i giovani è stato al centro delle priorità della presidenza lituana, commentato all'eurodeputato Aldo Patriciello da Strasburgo, obiettivo che credo debba essere perseguito anche dal Premier Greco che ben conosce le problematiche legate all'occupazione e all'economia, al centro dell'attenzione comunitaria e infine anche la riduzione delle emissioni di CO2. È approvato in aula un progetto di legge che introduce poi per i nuovi veicoli commerciali leggeri un'ulteriore riduzione entro il prossimo 2020. Ed è stato presentato in conferenza stampa a Campobasso il nuovo movimento civico-culturale che parteciperà alle prossime elezioni amministrative, un movimento quello di segnale civico che intende proporsi attivamente come valida alternativa nel panorama politico locale puntando ad un'azione amministrativa concreta basata su obiettivi raggiungibili e non false promesse. Sentiamo. Ricambio generazionale, attenzione ai problemi reali al territorio, dialogo e confronto con i cittadini. Queste le linee guida del nuovo movimento segnale civico presentato questa mattina in conferenza stampa presso il ristorante Rigoletto in Viale Principe di Piemonte a Campobasso. Un'esperienza che vedrà uniti per la prossima tornata elettorale associazioni e movimenti del panorama politico locale rappresentanti del mondo giovanile, delle categorie professionali, produttive e sociali. Spichiamo un profondo rinnovamento della politica partendo proprio dalla città di Campobasso. Il nostro è un movimento civico che si pone in una posizione di centralità, di neutralità rispetto alle vecchie logiche partitiche e politiche. Vogliamo partire proprio dai giovani, dalle donne, dalle professioni, dai valori e dal nostro territorio dando importanza a esso e facendo ogni scelta tenendo sempre conto di questo. Il giovane portavoce ha poi aggiunto che il movimento non escluderebbe un'eventuale coalizione con partiti maggiori. Noi siamo aperti al dialogo e al confronto con le altre forze politiche sempre però che ci siano programmi, progetti e persone valide per la nostra città. Non escludiamo la possibilità di presentare un nostro candidato sindaco alle primarie che abbiamo già individuato all'interno del nostro gruppo ove ce ne fosse la necessità. Restiamo in attesa di valutare i programmi. A noi interessa proprio il rinnovamento. Il rinnovamento secondo me ci può essere solamente portando programmi reali, cioè forti, dando quelle risposte che i cittadini campobassani, che tutti noi ci aspettiamo dalla politica e che ultimamente non stiamo avendo più. E non da ieri sera su Molise TV, la prima puntata del 2014 della trasmissione ai Talent 10, l'esibizione dei concorrenti che sono state votate dalla giuria tecnica, aspetterà ora al pubblico a casa sostenere i ragazzi in gara attraverso il televoto chiamando il numero 899-0303-39 al costo di un euro IVA inclusa. Vediamo. Io ho vissuto in questo modo per tantissimo tempo, davvero tantissimo tempo. E sappiamo i pensieri con l'apologia, voliamo via di qua. Let it be, let it be. All these places, you're all I see, you know this face. Ed il nabo da sola. Questi concorrenti che con le loro esibizioni sono stati protagonisti della prima puntata di i Talent del 2014. Sarà ora il pubblico a casa attraverso il televoto insieme al punteggio assegnato dalla giuria a decidere chi dovrà abbandonare il concorso. Nel corso della trasmissione sono stati poi svelati anche i nomi dei sette concorrenti che grazie al punteggio più alto ottenuto sommando voto dei giurati e televoto hanno superato la prima fase. i Talent vi dà appuntamento alla prossima settimana con nuove esibizioni. E passiamo ora alla pagina sportiva. Si disputerà oggi il recupero tra Boiano e Renato Curi-Angolana partita questa che era prevista per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D e che non si è disputata poiché il campo di gioco era impraticabile a causa della copiosa pioggia caduta sulla città matesina. La Lega di fatti ha scelto la giornata di oggi come data utile per il recupero della partita in questione. Uno scontro diretto tra due squadre alla ricerca di punti di salvezza finché la matematica non le condannerà definitivamente. E il Termoli con prestazioni di carattere continua a sognare l'impresa soprattutto dopo il buon pareggio di domenica scorsa contro la Capolista Ancona il presidente del Termoli Nicola Cesare è il primo dei tifosi a credere nell'aggancio alla vetta della classifica. Sentiamo. Il Termoli di Giacomarro continua nella striscia di risultati utili anche se nelle ultime due partite ha raccolto solo due punti su sei analizzando nel dettaglio le sfide però il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. Ottima la prova contro la Maceratese in 8 contro 11 per più di 20 minuti altrettanto positiva quella contro la Corazza Tancona di domenica scorsa. Segnali incoraggianti arrivano soprattutto dal reparto difensivo che sta dimostrando una grande solidità. Molto soddisfatto di come si sta comportando la squadra giallorossa in questa parte di stagione il presidente degli Adriatici Nicola Cesare. Un pareggio giusto, eravamo purtroppo in emergenza, lo sapevamo quindi abbiamo fatto una partita tranquilla, di contenimento, insomma va bene così abbiamo avuto pure qualche azione, insomma sappiamo che incontravamo una squadra forte quindi voglio dire, però siamo sereni e pensiamo di potercela giocare fino all'ultimo. Tancona forse ai punti ha fatto qualcosa in più di questo Termoli oggi? Sì, voglio dire, ha fatto qualcosa in più, siamo stati decimati a Macerata quindi sento i miei colleghi che si lamentano giustamente degli arbitraggi penso che se quest'anno c'è una squadra penalizzata è il Termoli calcio. Domenica prossima si riparte, comunque con tanta fiducia perché avete fermato la capolista. Siamo a sei punti, mancano 15 partite, insomma potremmo stare a qualche punto in meno se per esempio a Macerata non fosse successo quello che è successo però noi dobbiamo guardare avanti, stare tranquilli e già ho detto ai ragazzi che dobbiamo pensare da domani al Giulianova perché le assenze di oggi ci saranno pure domenica prossima quindi noi abbiamo giocato con Toscano che si è aggregato al Termoli mercoledì vorrei dire solo questo, per cui siamo contenti perché alla fine penso che se andiamo a vedere i tir in porta quello che è successo sicuramente l'Ancona ha fatto qualcosina in più ma ci poteva stare però abbiamo avuto le nostre azioni e siamo sereni perché non abbiamo visto nessun arrembaggio, nessuna difficoltà particolare e questo con una squadra purtroppo rabberciata come la nostra ma ribadisco più in termini di tempi e di condizione fisica penso che possiamo ritenerci molto soddisfatti. Ora bisogna continuare così mantenendo alta la concentrazione e facendo punti anche con le squadre meno accreditate per la vittoria del campionato a partire da domenica prossima contro il Giulianova. Il Real Termoli vince di misura sull'Acri Campobasso in una partita che sarebbe potuta terminare tranquillamente con un punteggio più ampio a fine gara comunque molto soddisfatto della proestazione mister Giovanni Guglielmi, sentiamolo. Il Real Termoli è riniziato il 2014 alla grande con una vittoria meritata contro l'Acri Campobasso numerose sono le pecche della squadra giallorossa a partire dalla poca cattiveria sottoporta e dall'incapacità di vincere lontano dal proprio stadio. È comunque molto soddisfatto della prestazione dei suoi mister Giovanni Guglielmi che ha analizzato così la gara. Se facciamo i punti, togliamo il rigore penso di averla vinta la partita da 1 a 10, 8 a 2 perché noi nel primo tempo, visto il nostro presidente che segna le azioni per i giornali ne abbiamo fatto 8 noi, 8 parate del portiere oppure abbiamo sfiorato la porta, 0 l'oro, è inoperoso il mio portiere. Secondo tempo, ancora 6 volte siamo andati vicino al gol e l'oro solo alla fine, un paio di parate di galassone, la mischia e tutti quanti mettono la palla dentro l'area per tentare di acciuffare il pareggio. Quindi poi il rigore, regalato o no, comunque è stato di fatto che qualcuno ha preso per la mano a Muci e quindi è andato a terra. Che poi si sia buttato o meno, questo bisogna chiederlo a Muci. Ora i giallorossi, se vogliono fare la differenza in questo campionato devono assolutamente invertire il trend della prima parte di stagione ovvero devono iniziare a vincere le partite anche fuori casa. E questo è il prossimo obiettivo a partire da domenica prossima contro il campo di Pietra. E ora il campo basso di Mister Farina che lavora duro per la partita di sabato contro il Benafro, a Delprete e Lupi dovranno fare ancora a meno di Pignataro e Corradino a centrocampo e sarà difficile avere la meglio contro giocatori che hanno grande esperienza e che hanno già disputato la serie di in passato. Il campo basso va a Benafro alla ricerca della diciottesima vittoria di fila mentre il Mister dei Rosso-Blu è alla ricerca della personale trentesima vittoria consecutiva. In eccellenza un risultato eccezionale che vorrebbe dire numeri alla mano per il Mister Rosso-Blu l'equivalente di un intero campionato senza mai perdere punti e partita. E con il campo basso termina qui il nostro telegiornale io vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per giovedì 16 gennaio 2014 Sul Molise è bel tempo prevalente con ampie schiarite fin dal mattino in serata tuttavia atteso un aumento di nubi stratiformi da ovest per l'avvicinamento di un nuovo fronte atlantico Ventilazione inizialmente moderata da nord-ovest in rotazione dai quadranti meridionali Mari generalmente mossi Temperature stabili o in lieve calo nei minimi Campobasso minima 2 massima 9 gradi Isernia minima 2 massima 12 gradi Termoli minima 9 massima 13 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Adiacente al cinema maestoso Grazie a tutti.